bastano mai, sigla questa è una trasmissione a basso posto Rai e noi siamo contenti se adesso la vedrai ma tu che sei un demore il passero solitario la nave sui flussi resta con noi, non te ne pentirai barstella 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 tanto, se ti stai un po' noianto basta che ci stai guardando e ti passa tutto quanto balla, lo diceva Lucio Dalla che l'impresa eccezionale è proprio la normalità barstella 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 barstella